Il futuro si fa strada al centro Leonardo. Inauguriamo oggi in collaborazione con Enel X un'area per la ricarica della tua auto elettrica. Con quattro postazioni, la ricarica rapida, oggi aggiungiamo un nuovo servizio alla nostra clientela che strizza l'occhio all'ecosostenibilità. Oggi con Enel X inauguriamo al centro Leonardo di Fiumicino un nuovo sistema di fare ricarica elettrica, sia ricarica elettrica che advertising. L'ambizione di Enel X è quella di creare a livello nazionale un circuito unico di questo tipo.